Sabato 28 ottobre si è svolta l'iniziativa della Coop Allevamenti Aperti. Gli allevamenti dai quali provengono i prodotti Coop hanno aperto le porte ai visitatori. L'iniziativa si inserisce nella campagna Alleviamo la Salute, che ha come obiettivo la progressiva riduzione dell'uso di antibiotici in allevamento fino all'eliminazione. Negli ultimi decenni, infatti, in Europa l'uso degli antibiotici per la cura dell'uomo e degli animali è progressivamente cresciuto. Questo fenomeno ha contribuito a rendere i batteri più resistenti e ridurli o eliminarli è sempre più importante. Coop è la catena di supermercati più sensibili ai temi del benessere animale. Con le sue azioni ha portato un cambiamento nella gestione degli allevamenti degli animali da reddito, mettendo in atto buone pratiche di biosicurezza e benessere.